Riparte dalle medie il modello scuole sicure lanciato dal comune di Pesaro. Da domani fino a sabato 10 aprile è in programma il terzo screening anti-covid-19 agli studenti della città. Occorre monitorare gli alunni, ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. I giovani infatti sono fuori dalla campagna perché fino ai 16 anni non verranno vaccinati e da 17 anni in su lo faranno a danno scolastico terminato. Lo screening è una fotografia del momento, ha spiegato il primo cittadino, e per questo andrebbe ripetuto periodicamente. È un'operazione che dovrebbe essere fatta dallo Stato o dalla Regione, ma a Pesaro, per la terza volta consecutiva, verrà organizzata dall'amministrazione comunale. L'8, 9 e 10 aprile sono le tre date scelte per i tamponi rapidi che la macchina organizzativa svolgerà nelle secondarie di primo grado in collaborazione con diverse associazioni e volontari del territorio. Il calendario partirà domani, data durante la quale due postazioni itineranti eseguiranno i tamponi rapidi agli studenti delle prime medie. Ritmi intensi garantiti dalla doppia squadra operativa negli istituti, quella guidata dalla Croce Rossa italiana, Comitato di Pesaro, e quella dell'AIL che, con mezzi mobili, raggiungeranno i vari plessi scolastici garantendo la copertura completa degli oltre 840 alunni. Lo screening poi proseguirà venerdì e sabato per i circa 1.700 studenti delle seconde e terze classi.